E' iniziato all'alba di ieri il blitz delle forze dell'Ordine per lo sgombero dell'ex SEA di via Bardonecchia a Torino. La struttura ospitava da un paio di settimane una trentina di famiglie sfrattate. Mancavano pochi minuti alle sei quando le forze dell'Ordine sono entrate nell'edificio e, presentandosi davanti agli occupati, li hanno invitati ad abbandonare la struttura. Le famiglie, dopo aver raccolto le proprie cose, hanno abbandonato la palazzina senza porre alcuna forma di resistenza nei confronti dei militari. Ad operazione ultimata, sette persone, tra cui quattro donne e trenta agonisti del centro sociale a Scatasuna, sono state denunciate per resistenza pubblico ufficiale. Le famiglie sfrattate sono state collocate dal comune presso una sistemazione abitativa temporanea. Dopo lo sgombero, le porte dell'ex SEA sono state saldate dagli operai del comune. Una situazione, per molti versi, ben più grave è riscontrabile nell'ex MOI. La struttura, ancora adesso, risulta essere la demora abusiva di almeno 400 profughi e lo sgombero, deciso da tempo dall'attività giudiziaria, non è ancora stato operato.